Anche ricordato un piccolo aspetto di cronaca, ma che ci dice molto, il primo incontro fra Putin e Kissinger avvenne nel 92, quando Putin era vice sindaco di Leningrado San Pietroburgo e andò all'aeroporto ad accogliere Kissinger che veniva in visita per parlare con il sindaco Sabtchak di investimenti americani e quant'altro. Fecero questo tratto di macchina insieme, Kissinger fece molte domande e poi fece una critica feroce di Gorbaciov, dicendo che Gorbaciov ha distrutto l'ordine, ha creato un gran turbinio pericoloso per la stabilità del mondo e Putin, questo lo scrive in un suo libro autobiografico, ha detto che aveva ragione lui. Grazie a tutti.